ragazzi ma che cosa abbiamo visto ma ci rendiamo conto della partita che abbiamo visto stasera ci rendiamo conto dell'impresa che ha fatto il manchester city eliminando real madrid in questo modo manchester city è la seconda finalista di champions raggiunge l'inter di simone enzaghi si scontreranno ad istanbul sarà una partita che sulla carta secondo me non ha una storia non ha storia l'inter è una squadra forte è diventata una squadra forte è tornata una squadra forte dopo un periodo di flessione ma questo city è troppo più forte ma di chiunque premier league non so se avete seguito l'impresa che ha fatto andando a recuperare tutti quei punti che ha recuperato all'arsenal che sembrava quasi scritto come vincitore dopo tantissimi anni addirittura si è detto l'arsenal snobba l'europa league per cercare di chiudere ammazzare la premier league l'arsenal è imploso su se stesso e il city è stato cannibale in uno stato di forma vergognoso infatti all'andata real madrid manchester city non mi era mica piaciuta ve l'avevo anche scritto sui social vi ho detto sono stato molto deluso sarò critico ma sono deluso dalla partita che ho visto perché so che cosa può fare in real madrid so cosa può fare il manchester city il primo tempo credo che sia stato uno dei più belli se non il più bello di cui io abbia ricordo di qualsiasi squadra mi ho vista di partite ma primo tempo così sono sincero non me lo ricordo non me lo ricordo perché il manchester city ha aggredito altissimo real madrid quelle rare volte in cui real madrid è entrato in possesso del pallone addirittura c'è c'è stato un momento che ho fatto una foto a una grafica ve la voglio leggere ve la voglio leggere perché alle 21 e 16 quindi intorno al sedicesimo minuto di gioco 124 passaggi riusciti del city 13 passaggi riusciti del madrid 79 21 possesso palla ancora sullo 0 a 0 con courtois che aveva già fatto un paio di miracoli con holland che aveva sbagliato un gol veramente facile già fatto per uno come lui che ha segnato la cinquantina di gol in stagione madonna ma ci rendiamo conto e il city che sembrava semplicemente dover trovare il momento in cui poi sarebbe riuscito a trovare il gol ma sapete cosa quando c'è il real in champions è sempre qualcosa di strano no perché anche nel momento in cui poi il city è andato in vantaggio io avevo la sensazione perché ho visto mille milioni di partite del real in champions e ha sempre avuto quella cosa strana che le partite non finivano mai e chiedetelo ai tifosi del city l'anno scorso e quindi l'idea che potesse recuperare ma il city ragazzi pressing alto condizione atletica invidiabilissima break a centro campo verticalizzazioni a cercare l'attaccante movimenti senza palla movimenti programmati all'interno di una squadra che sembra semplicemente perfetta tra l'altro bellissimo vedere che su 22 giocatori ben 21 erano gli stessi della semifinale d'andata cambiato solo una cosa nel real non ha giocato rudy che era giocato militao dal primo minuto ma per il resto entrambi gli allenatori hanno confermato la formazione e se all'andata guardiola non aveva fatto nemmeno un cambio beh al ritorno i primi cambi li fa al minuto 80 e tra l'altro il gol del 4 a 0 con cui guardiola va a classificarsi a qualificarsi per la seconda finale di champions da giocare col manchester city lo costruiscono appunto mares lo costruisce foden e poi va a segnare julian alvarez perché poi ci dimentichiamo no che che questi hanno holland titolare tra l'altro oggi vi facevo vedere la carta di holland che ho trovato con tanto di di pezzo di maglia del city all'interno della card meravigliosa quindi quello è titolare perché più forte sappiamo tutti non c'è neanche da stare qua a ripetere a pappagallo i numeri ma in panchina tengono il centro avanti titolare campione del mondo dell'argentina che ha vinto il mondiale qualcosa come cinque mesi fa mica 15 anni fa cinque mesi fa da titolare con l'argentina e fa panchina perché gioca gioca Erling che questa sera non è riuscito a trovare il gol tra andata e ritorno non ce l'ha fatta nel secondo tempo ha sbagliato un altro bel gol forse ancora più clamoroso di di quello del primo tempo di testa tra l'altro l'altra sera mi è capitata la stessa palla gol a me sul sinistro lui sul destro io sul destro lui mancino ha sbagliato esattamente come me quindi se lo sbaglia holland direi che posso sbagliarlo anch'io senza nessun problema però non è riuscito a trovare il gol e quindi secondo me arriverà alla finale di champions ancora più arrabbiato ancora più affamato ancora più voglioso perché comunque mi ricordo che all'andata non sono mancate le critiche eccolo qua sparisce nei momenti decisivi non è ancora pronto questo arriva a carico a pallettoni in finale con la voglia di spaccare il mondo anche perché mi sembra veramente uno che dai momenti difficili riesce poi a trarre una sorta di miglioramento quindi ho la questa sera a secco vediamo come finisce il campionato ovviamente come finisce questa champions league primo tempo dicevamo altissimi livelli veramente altissimi livelli real madrid completamente scomparso uscito dal gioco che si affidava a un paio di spunti come quello di cross dove becca la traversa con un calcio da fermo un calcio bellissimo col pallone che va via il replay lo vedete che non gira neanche va via dritto meraviglioso gesto tecnico di cross e io vi giuro che a fine primo tempo in questo secondo ho sognato per un gol del madrid ho sperato tantissimo in un gol del madrid perché perché riaprire questa partita e quindi regalarci un secondo tempo ancora più di fuoco fiamme lotta con la possibilità di riaprire ulteriormente sarebbe stato meraviglioso invece il manchester city che nel secondo tempo sicuramente abbassato i ritmi infernali infernali del primo tempo palla che girava veloce pressing veramente asfissiante quasi selvaggio cattivissimo un pressing cattivissimo in quelle rare occasioni in cui il madrid aveva palla e il city continuava a recuperarla in avanti continuava a recuperarla altissima sulla tre quarti del madrid che non aveva veramente la possibilità di respirare c'è stata un'occasione un momento nel finale quando poi anche ederson si è si è iscritto alla partita quando ha cercato di imitare courtois che comunque è stato probabilmente anzi probabilmente il miglior giocatore del madrid annichiliti sotto ogni punto di vista perché ripeto abbassando poi i ritmi creando una partita più di gestione ma comunque finalizzata voler cercare gol del 3-0 che arriva poi su un autorete su una punizione in cui la toccano tutti e poi emilitao che la tocca per ultimo in fila il suo compagno forse solo così si riesce a far gol a courtois devono essere i compagni a buttarla dentro però in un secondo tempo un po più tranquillo in cui il madrid avrebbe dovuto cercare di fare di più quello che sa fare cioè le rimonte rimanere nella partita beh il real è completamente uscito dalla partita nella sua competizione e questo vi fa capire quanto sia complicata questa cosa guardiola l'anno scorso ha sfiorato la finale di champions è uscito proprio perché il real non è mai uscito definitivamente dalla partita ha perso una finale di champions da super favorito nei confronti del celsi un celsi che vinse per 1 per 1-0 gol di caiavers e ora si ritrova ancora una volta da favorito in finale di champions ripeto secondo me il verdetto il pronostico è scritto ma una partita così secca 90 minuti può succedere qualsiasi cosa se addirittura potremmo arrivare a vedere un inter campione d'europa contro il manchester city di guardiola per chi tifo io non tifo nessuno ho sempre detto anche quando ci sono le italiane all'estero io ragazzi io tifo la juventus poi se le italiane vanno avanti devo dire la verità non mi dispiace non mi dispiace ma arrivata la finale non posso fare altro che nascondervi che non avrei piacere di vedere l'inter campione d'europa io credo di essere anche abbastanza sportivo ho riconosciuto i meriti all'inter credo che abbia fatto un buon percorso anche agevolato dalla fortuna dei sortenci ma questo poco importa perché poi bisogna andare sul campo bisogna vincere le partite l'inter l'ha fatto l'ha fatto con decisione ha battuto il benfica che sembra una squadra molto ostica ha vinto un euro derby e non è assolutamente facile di un milan che aveva eliminato il napoli quindi secondo me l'inter ha dei grossi meriti per la sportività secondo me è una cosa invece il essere felici se la squadra rivale vince la coppa più ambita che tu sogni da un pezzo beh questo secondo me è semplicemente un'altra cosa quindi lo dico senza problemi avrei molto più pacere a a vedere guardiola campione d'europa tra qualche settimana in turchia poi se vincerà l'inter ecco proprio perché mi ritengo una persona abbastanza sportiva semplicemente andrò a fare i complimenti ai rivali che nemmeno mi aspettavo di poter vedere fin qua quindi hanno 90 minuti dal sogno e hanno la possibilità di giocarsi un trofeo molto importante come dicevo oggi c'è una sana invidia sportiva nei loro confronti perché comunque noi domani invece andiamo a giocarci una semifinale di europa league che ha un tasso di specchio di spettacolarità è un tasso di interesse di importanza decisamente inferiore torneremo ad avere dei momenti in cui anche noi potremmo sognare di alzare quella coppa 90 minuti dal termine abbiamo un rapporto bizzarro con le finali l'inter invece mi pare che su quattro volte l'abbia vinta tre arrivata in finale quindi una sola sconfitta ad ogni caso ci sono solo due possibilità la quarta champions league dell'inter o la prima del manchester city non la prima di guardiola che aveva già vinta barcellona ma ovviamente guardiola sta cercando di inseguire questo trofeo da un po e sa benissimo che per coronare questo percorso anche oneroso onerosissimo e con diversi problemi lo sappiamo anche il manchester city nei confronti della uefa c'è un po di problemi infatti stasera abbiamo sentito lì non fischiato guardiola sa che deve portarsi a casa quel trofeo lì perché non è roba da poco arrivare in fondo poi non vincerla e ve lo dice uno che l'ha vista perdere due volte anche se la juve purtroppo ne perse ben più di due due volte anche se la juve purtroppo ne perseguita dalla macchina che è un po' di soluzione che non si trova che si trova